Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ho qui, 10 bustine, andremo oggi ad aprirle Non me ne mancano tantissime di figurine Quindi è sicuramente probabile, ricordiamo che questo è l'album di Giro d'Italia d'amore infinito Credo che di poterne trovare tante doppie Cominciamo subito ad aprirle intanto, senza perdere troppo tempo La cartolina numero 20, Susa Cervinia, penso di avercela già Però per sicurezza controlliamo, ecco, questo ad esempio è già doppio Questi due sono già doppi perché l'otto Jumbo ho finito i corridori Quindi Velasco, Jareghe è doppio perché ho finito la C2Z E Van Avermaet sono sicuro che sia doppio Quindi poi, ad esempio, Velasco non me lo ricordo se ce l'ho o no, dovrò controllare Ma finora, finora le altre sono sicure che siano doppie O per una cosa o per quell'altra, però insomma C'è una bicicletta della Team EF Educational First Le faccio vedere, queste le cartoline le controlliamo dopo perché è un po' difficile Ecco, Bardiani è doppio Lugno Bico dovrebbe essere doppio Movistar, non lo so Abbiategrasso è doppio E appunto Bidar della Age of Deserves sono sicuro che sia doppio Da controllare queste due della Movistar, anche se ho molti dubbi sul fatto che dovrei avere le doppie E altri sono proprio sicuro del doppio La bici della Stana, le biciclette non me le ricordo molto Quindi poi le cartoline le controllo, ripeto, le controllo dopo proprio per questo motivo Mamma mia, si è bloccata Maronna mia Bicicato tutto qua Ok Ecco, l'Androni giocato è un'altra squadra che ho finito Quindi Vendrame è doppio Nicolas Roche è doppio Siusto dovrebbe essere doppio Antonio Nivali e Gero Zaludor Queste sono dovrebbe essere tutte doppie Insomma, chiaramente più avanti più le doppie è facile trovarle Mi girano un po' le scatole però Praia Mare e Montevergine Anche questa non mi ricordo se ce l'ho meno E apriamo ancora un altro Androni giocattoli Vannesburg non lo so Daniel Martin non lo so Io quelli che non lo so li sto mettendo lì A proposito, prima ce n'era uno che non sapevo E l'ho comunque messo qua Intanto questi due Show dovrebbe essere doppio Sicuro lo ha Kudus Ma Show dovrebbe essere doppio Lo metto comunque nei forse per controllare Qua c'era qualcuno che non ho controllato dei doppi Vediamo che c'era un qualche forse No, mi sembra proprio assolutamente no Quindi Andiamo avanti, andiamo avanti Perché ce ne sono tante di figurine ancora di bustine da aprire L'Israel Jersey è doppia Questa sono sicuro Perché l'ho trovata tantissime volte Questa Jersey qua La maglietta di chi ha vinto l'etapa in Israele Abbiamo Eros Capecchi Forse, perché non ne ho idea Damiano Caruso dovrebbe essere doppio Anche questo mettono in forse Ma è più È più sì che no E quegli altri sono Tolto Novak Che è un forse Gli altri sono doppi E ragazzi adesso come ho detto Veramente non ne mancano tanto Un'altra tappa Osimo Imola Non lo so sinceramente le tappe Adesso le controlliamo Appena finisco qua Ma Intanto troviamo l'attuale maglia rosa Roland Ennis Che è sicuramente doppio Così come il Rijksberg Le squadre non me le ricordo Quindi le metto nei forse E Peio Bilbao Non mi ricordo Quindi lo mettiamo Anche lui Nei forse Anche se forse So che molti Bicicletta Trek Segafreddo Dovrei averla Anche se ripeto Nei forse Ci saranno molti doppi Lopez e Lushenko della Stana Sono doppi Adesso qua c'è Un giornale di coppi Dovrebbe mancarmi Dovrebbe mancare questo qua Rivera è doppio E Marraimerida E io non mi ricordo Lo mettiamo nei forse Questa è una pagina Intanto non ve l'ho fatta vedere Di coppi Questa potrebbe mancarmi Anche perché non ne ho trovate Tante di quelle pagine lì Cioè alla fine La cosa più difficile da trovare è quella Israel Cycling Academy Poi ripeto Lo ripeto Per la 304 Quattresima volta Le carte le vediamo dopo Van Vinden Sono sicuro che è doppio Perché l'ho trovato ieri Così come Danna Così come Emanuele Così come Steward Della Quickstep E così come Bennett Tutti doppi Perfetto Stiamo andando proprio benissimo Lo trovate una cattervata di doppie Qua abbiamo Trento Rovereto Sono sicuro di riavercela Perché l'ho trovata Impaccata di volte Questa carta qua E adesso andiamo avanti Ancora Qua abbiamo Dosvet Che è un forse Hacker Mandela Bora Forse Non lo so Diego Lissi Frapporti E la planimetria del giro Tutte e tre Doppie Ultima bustina Poi andiamo a controllare Appunto Tim Catiuscia È doppia la carta Sicuramente James Shaw è doppio Anche perché l'ho trovato prima Quindi lo metto nei doppi Ton du Moulin Questa è una carta Invece questa sicuramente non ce l'ho La vittoria di Nibali Su altezza Nibali Quindi questa non ce l'ho Piber Mick Sono sincero Non lo so Quindi lo mettiamo qua E Rosglitch È doppio Io direi di andare subito a vedere Le cartoline Così vediamo subito Come siamo messi Mamma mia Ok Allora Alpe Sim Doppio Trento Rovereto Doppia Israel Cyclic Academy È il 53 Ed è doppia Trek Segafredo È il 64 Dovrebbe essere doppia Perché me la ricordo Infatti Osimo Imola 12 È doppia Questa big start Israele è doppia Praia Mare Molte Vergine Di Mercogliano Manca Bella questa Questa manca Attenzione C8 dunque manca La segniamo E questa è passata Abbastanza importante Poi Astana Protinim Dovrei averla 47 Infatti è così Team Educational First 59 Ce l'ho E Susa Cervinia Ce l'ho Perfetto Quindi ho trovato Una cartolina Che mi manca Questo mi va bene Anche perché adesso Le tappe Mi ne mancano 1, 2, 3 4 e 5 tappe Più 1, 2, 3 4, 5 6 7, 8 9 Divise Della società E poi 1, 2, 3 4, 5 6 Biciclette E 2 maglie speciali Insomma Man mano si cresce E adesso Io andrò ad attaccare O perlomeno a controllare I dubbi I dubbi Quindi cominciamo subito A guardare Poi l'attacco magari dopo Ma almeno andiamo a vedere Quanti ne trovo Che mi mancano Allora La Gio de Zera Ovviamente l'ho finita Quindi l'androni giocattoli pure Quindi non c'è molto da controllare La Stana Io ho messo qualcuno della Stana Per Bilbao Che però c'è C'è Non so dov'è Mamma mia Ecco l'è il primo Quindi c'è C'è assolutamente Vediamo se c'è qualcun altro Della Stana Che ho messo Ma Dubito Infatti Infatti La Stana E qua Adesso Barra in Merida Ho messo Pibernik Ma ce l'ho Non so dov'è Pibernik Eccolo qua Quindi c'è La squadra E c'è E Novak E ce l'ho qua Basta Quindi Quindi assolutamente Tutti per la Barra in Merida Bardiani CSF Manca solo Carboni E Non so dove posso Trovarlo Questo ragazzo qua Perché Poi controllo anche Le altre Ho dato per scontato Ma BMC Manca solo Riciporte Sono sicuro di non ne trovarlo Non ho trovato Ludwison Della Grupama Israel Cyclic Academy Manca solo mezza squadra Tutti i corridori Ce li ho Lotto Sudal Vediamo Lotto Sudal Io ho messo Ho messo Sono BMC Ho messo Shoma Shoma Credo che sia quello Che ho trovato più doppio In assoluto Veramente Poi Mickelton Scott Non ho trovato Nessuno Movistar Alla fine Movistar Io ho messo Due Mezza squadra E Nico Bico Ma Movistar Mi manca soltanto Carlos Betancourt Quindi Quickstep Energetic Mi manca soltanto Mezza squadra Quindi Ce n'è uno Che qua Infatti Capecchi Ma ce l'ho Quindi E sto trovando Veramente Tanta gente Tutte già Team Division Data Vediamo Qua Ho trovato Van Reersburg Che ce l'ho Quindi assolutamente Finora tutte doppie Team Educational First Ho trovato mezza squadra Ma mi manca solo Hugh Carty Quindi via Veramente una strage Oggi Alpesin Dosret Dosves C'è Manca soltanto Gunn Schmidt E Signor ragazzi Questo qua Veramente è stato Un disastro Team Lotto Come ho già detto Mi manca solo Mezza squadra Team Sky Completata Team Sunweb Non ho trovato nessuno Mi manca soltanto Tenham 3 Segafredo Che è una di quelle Dove ero più indietro Adesso me ne mancano due Ma Non ci sono Adesso Vediamo L'UAE Questo è doppio Daniel Martin Finalmente Una che mi manca Daniel Martin Daniel Martin Io adesso Lo lascio qua Poi lo attacchiamo Finalmente Gusti Non ho guardato Per la Bora Però Non ho guardato La Bora Ho essere dimenticato La Bora Quindi Torniamo la Bora Ah signore Ma Veramente Man mano Manca Schwarzman E invece Io ho Ackerman Quindi Non è lui E niente Quindi torniamo Adesso Alla Willi E il Trestina Seritaria Ma Mi manca Luca Pacioni Io ho Velasco E adesso Speriamo Nelle Nelle Pagine Diciamo 3 6 7 Quindi Vediamo Oh beh Coppia Borgno Mi manca E Nibali Sono sicuro Che mi manca Perché Esatto Certo L'ho trovato Basso Questo è La 378 Quindi Nibali A Sant'Anna Divinario Queste due Le due Gazzette Mi mancano Fortunatamente 3 figurine Su 10 pacchetti L'abbiamo trovate Così come ho trovato Su 10 carte Una che mi mancava Dai insomma Alla fine Tutto sommato Non ci possiamo Lamentare Bene ragazzi Io vi saluto E vi do appuntamento Con i prossimi video E ovviamente I prossimi video Sul Giro d'Italia Amore è finito Ma anche sul Giro d'Italia Che riprende Proprio oggi Dalla Sardegna Ciao a tutti Ciao a tutti